ecco continua questo giro serale in realtà sto cercando l'hotel dove ho prenotato so che dentro e dentro questo posto posto molto folcloristico che permette perfettamente di amalgamarsi con l'adattato locale infatti è mia abitudine cercare sempre di trovare i posti autentici qui diciamo qui siamo a un chilometro dal centro per quella zona più centrale la zona centralissima di kuala lumpur però nel contempo è probabilmente il tempo vi faccio vedere una panoramica giusto per capire l'architettura qui i personaggi sono sicuramente autoctoni ciao tutto bene che abbiamo trovato anche qualche uno che ci ha salutati ecco questo un po un breve tour non mancherò poi di approfondire ulteriormente vi porterò anche a visitare i posti diciamo le foreste i posti più naturali così autentici però nel frattempo questo è uno scorcio della città che stiamo per visitare come vedete anche le facce sono molto rassicuranti e questo è anche confortevole grazie